Ma è così alta dal 2012, sale ancora l'inflazione nel mese di ottobre con un più 3% attrae in area l'aumento dei prezzi, soprattutto i beni energetici, dalle bollette alle materie prime e carburanti accelerano anche i prezzi dei beni alimentari per confessercenti a rischio 9 miliardi di consumi. Dati preoccupanti che arrivano nel giorno in cui al Senato con circa tre settimane di ritardo inizia l'iter parlamentare della legge di bilancio. Nel pomeriggio Draghi invece incontra i vertici di Cigelle e Cisle Will per avviare il confronto sulle pensioni. I sindacati sono del tutto insoddisfatti del passaggio previsto in manovra da quota 100 a quota 102 ossia 64 anni di età e 38 di contributi per lasciare il lavoro. Legge di bilancio digerita non senza difficoltà anche dei partiti. A disposizione ci sono 8 miliardi per il taglio delle tasse e si deve decidere se investire quei soldi sulle buste paga dei lavoratori o procedere come chiede soprattutto la Lega una flat tax sulle partite IVA fino a 100 mila euro. Altro tema di scontro resta quello del reddito di cittadinanza con le nuove modifiche apportate dal governo che prevedono una graduale riduzione dell'assegno di fronte a rifiuti di offerte di lavoro. E poi il super bonus edilizio al 110% e gli altri bonus per le ristrutturazioni i cui parametri per l'accesso al credito sono stati rivisti in senso limitativo. E proprio di fronte alle divisioni della maggioranza è arrivata la proposta del segretario del Partito Democratico letta di un patto tra le forze della coalizione di governo per blindare la manovra nel percorso parlamentare. Da tutti i leader di partito che si sono ritrovati nell'assemblea di Confesercenti è arrivato il sì alla proposta ma resta da vedere come si andrà a concretizzare. Non sfugge infatti che il vero obiettivo sia non tanto la legge di bilancio quanto la corsa al Quirinale Draghi resta e il candidato numero uno ma c'è chi lo vorrebbe ancora a Palazzo Chigi e per molto tempo. Siamo convinti che questo lavoro debba assolutamente andare avanti fino al 2023 che anche ultri e anche ultri